Si comincia sabato 30 marzo con la proiezione del film Radici di Luca Cococcetta e il dibattito sulla leggenda del progetto case, per poi proseguire fino a domenica 7 aprile con seminari, convegni, incontri, proiezioni di documentari e reportage, confronti con figure di rilievo nazionale come Tommaso Montanari dell'Università per gli Stranieri di Siena, che il 3 aprile al GSSI parlerà della memoria del futuro. È un programma ricco di eventi che va al di là del lutto, oltre il dolore mai sopito in dieci anni dal terremoto, quello messo a punto da un vasto numero di associazioni che dal 2009 si sono battute all'Aquila per la verità e la giustizia, per una ricostruzione partecipata, per il ritorno alla normalità. Un presidio che avrà il suo quartier generale in via Verdi, in centro storico, nato senza finanziamento e senza sostegni esterni se non quello dei volontari. Una memoria che non va intesa soltanto come lutto, certamente come commemorazione, come ricordo del dramma e delle vittime, ma anche per raccontare le reti sociali che si sono create negli anni, per ragionare sul futuro che aspetta non soltanto l'Aquila, ma tutta l'Italia, che dal dramma dell'Abruzzo deve trovare la spinta per diventare un paese più sicuro e consapevole delle sue fragilità. Vincenzo Vittorini, che cosa abbiamo imparato in questi dieci anni dal terremoto? Abbiamo imparato tanto, però forse abbiamo messo in pratica poco. Allora l'idea è nata con tante persone che in questi dieci anni si sono battute sugli argomenti più disparati, di creare un presidio che narri all'Aquila dieci anni dal terremoto, perché sono dieci anni dal terremoto, è un qualcosa di vero e di vitale, perché si parlerà in questo presidio di una settimana di memoria, si parlerà di prevenzione, si parlerà di sicurezza, si parlerà di verità, si parlerà di giustizia, si parlerà di tantissimi argomenti sui quali a volte è sceso l'oblio. Vogliamo raccontare quello che è successo, vogliamo raccontare non solo il terremoto, ma questi dieci anni per le lotte che ci sono state, le reti che si sono formate dall'Aquila con il resto dei territori e anche a che punto stiamo.